A te era questo politico di sinistra che è stato presidente che voleva che ogni spagnolo potesse avere a meno di 50 km ovunque gli fosse in Spagna a meno di 50 km doveva avere una ferrovia di alta velocità o un'autostrada e invece con la crisi ora si sta rendendo conto che non lo può fare La Spagna ha 20 aeroporti in più che la Germania si vanno i soldi per poter portare avanti i progetti Grazie Grazie